Single! Lo sapevate che una persona su tre in Italia è single? E non lo dico io, lo dice una ricerca fatta da professionisti Così ho pensato, devo fare qualcosa per aiutare i single in cerca dell'amore Mi sono messo a cercare, cercare e ho scoperto che l'amore spesso si trova sulle app d'incontro Che tu conosci bene, Mattè? Sì, se le uso quotidianamente Mentre sempre secondo questa ricerca ci sono tre città in Italia dove la gente è particolarmente single I più timidi stanno ad Ancona, Pescara e Brindisi Ed è proprio ad Ancona che facendo altre ricerche ho trovato un single party Una festa che ti promette di trovare l'amore A cui a questo punto dovevo assolutamente andare Che serata, Mattè, che serata Ma per raccontarvi al meglio questa storia dobbiamo partire dall'inizio Una telecamera, una notte in giro Per scoprire come si diverte la gente E tutto il resto è quello che succede Alla ricerca dell'amore, il single party ad Ancona Ti sei messo il comodo, Mattè? Sì, sì Mettiti comodo Perché la nostra storia parte da Milano Buongiorno a tutti Sto per partire in direzione Ancona Ancona, 5 minuti alla partenza del treno Ecco la nostra carrozza Eccoci Ce l'abbiamo fatta Drizza le orecchie, Mattè Le hai drizzate? Sì Bravo L'unica cosa che so è che questa festa delle regole ferre È molto precisa Che si terrà all'interno di una discoteca Basta, non so più niente Noi stiamo andando da Ancona A scatola chiusa Sì, Mattè, perché dobbiamo trovare dei nuovi metodi Per trovare la mozza Cioè noi stiamo andando da Ancona Non così, a cazzo Stiamo andando per Salvare il mondo Salvare il mondo, bravo Così dopo tre ore di treno Siamo arrivati Continuo a chiedermi se ci sia davvero l'esigenza Di una festa per incontrare dei single Nel 2023 Dove si rimorchia rispondendo ad una storia Instagram O con uno scambio di foto da sozzone in chat Allora facciamolo un tour Finita Ma attento, dove dormi? Sì, sono proprio piccoli Ma vabbè Sono molto curioso di scoprire di più Però prima La prima tappa è la cena Per scoprire le regole del single party Andiamo a cena con i creatori di questa festa E così, tra una pizza scroccata e l'altra È un single party da cui nessuno esce single Fondamentalmente Nessuno? Inizio a parlare con Tina Che per il locale fa la General manager Noi inglesi diciamo così Le regole della serata, quindi Un ragazzo arriva nel locale e che succede? Gli viene dato un numerino Durante la serata poi, notando il numero Ovvero la ragazza numerata Ha la possibilità di scrivergli un messaggio in anonimo o no Ci sarà uno spazio dedicato Sarà delle lettere, le penne con cui scrivi un messaggio E verrà ricapitata questa persona E conoscerà, si spera, l'amore della sua vita Sicuramente l'amore della sua vita conoscerà Tu hai visto già nascere delle coppie Cioè sta cosa funziona oppure no Non funziona per chi vuole rimanere single Spero non funzioni per me Mi raccomando non fare il cretino stasera O almeno lo spera la mia fidanzata Quante persone ci saranno tra ragazzi, ragazze Io Compreso te 1501 Se si accoppiano tutte so Ma a te fai un veloce calcolo 750 coppie Ma a te ho fatto lo scientifico Per questo chiedo a lui Insomma, le regole della festa erano chiare Più o meno Tanto più avanti lo spieghiamo meglio Ma a te non spoilerare il libro adesso E in più ho visto Ci sono anche degli influencer ospiti stasera Ci sono sei ragazzi Le sorprese per me non finiscono Chi TikTok, chi collegio, chi Instagram Insomma, ognuno ha il suo pubblico Così dopo questa notizia Aver finito gli ultimi bocconi di pizza A mezzanotte ci siamo Vai Arriviamo al locale Dove si terrà la festa che promette di trovarti l'amore E proprio come ci aveva detto Mi hanno assaldato un numero a Matteo Guarda qua, che numero c'è? Anche a me danno un numero Numero che questa ragazza all'entrata consegna a tutti quanti E che servirà agli altri presenti alla festa Per scriverti un messaggio Da consegnare in questa postazione Matteo, questa è le mie spalle È la bacheca sulla quale scrivono i numeri Se il tuo numero è scritto lì C'è un messaggio d'amore per te Capito o no? Così mi portano nei camerini Dove sono già arrivati gli influencer ospiti della serata E dove sono già partiti i festeggiamenti Siamo un brindisi ragazzi, tutti noi? Chi lo fa il brindisi? Alla serata La serata sarà bellissima Super, ma che domande sono? Ma che domande faccio? Auguri a tutti Evviva, evviva con noi Non c'è niente, ho mai dato niente a me Vabbè L'acqua, l'acqua Prima che escano come special guest della serata Scambio due chiacchiere con Denise e Giada Io sostanzialmente faccio sia balletti che video ironici Su Instagram invece mi limito sostanzialmente a fare format più di moda Le foto Oh, ha fatto tutto sto giro Tu invece che fai? Principalmente TikTok perché mi piace ballare Quindi ballo Insomma, ti impegno Possiamo dirlo Ti impegno Ti impegno E cerco di capire qualcosa in più sulla loro presenza al single party I metodi per trovare l'amore nel 2023 quali sono? Sono arrivata a un punto della mia vita in cui non so neanche più come approcciarmi onestamente Dal vivo non si sa più come socializzare, come parlare Ma questa è la prima volta che fai una serata in discoteca oppure no? No, no, ho già fatto altre serate in discoteca Ti approcciano i ragazzi in discoteca così? A volte in dei modi veramente brutti Cioè, c'hanno anche dei modi belli per approcciare in discoteca? Esempio Stavo facendo la fila al bancone per prendermi un drink Un ragazzo gentilmente si è offerto Se vuoi te lo prendo io al posto tuo Molto gentile Ed è nato l'amore? No, non è nato l'amore Ah, non è funzionato niente Per un cesso Ah, l'estetica è la prima cosa, è fondamentale Il fattore estetico è la principale Ma pure tu hai il numero, ho visto 278 Ma loro due non sono le uniche ospiti della serata Vi conoscete tutti qua? No Ma si sono presentate? Sì Perché ridi tu? Ridi Faccio questa domanda perché le vedo da un po' divise in due gruppetti No, magari uno dice No, sono meglio io, sono più importante io No, quello no Infatti vi vedo che siete amicissime Non mi faccio dei paranoi da competizione Questi contesti, no? C'è un po' di competizione Sì, tantissimo E così, quando manca sempre meno all'inizio del single party Parlo anche con l'altro gruppetto di special guest della serata Entrambi abbiamo fatto il collegio Tu confermi? Sì, sì Quando esci da un programma televisivo Molte volte anche magari ti ritrovi un sacco di follower È difficile gestire la fama in quel momento là Io mi rendo conto che la mia vita un anno fa rispetta come ora È cambiata tantissimo Il mio boom l'ho fatto ad ottobre È difficile da gestire specialmente se poi non vuoi diventare un personaggio morto Cioè vi piace essere vista in discoteca? Vi piace? Tantissimo A me piace proprio di essere notata Non è un botto Mi piace sempre stare al centro dell'attenzione Siamo le reginette ovviamente Anch'io sono un po' reginetta secondo voi In effetti sì Dai E se non vuoi diventare un personaggio morto non più reginetta Devi stare attento anche ai ragazzi Manipoli Tutti due E come lo manipoli tu un ragazzo? Mi fa un po' la sottona Così lui vede che tu sei sottona Vai però dopo un po' diventare stronza Così lui vede tipo che ha questi balsi tumori Ci devi un po' giocare Questa è la cosa che ti differenzia dalle altre? Diciamo Sì Ma certo No Non ci ho capito più di tanto Scusate Secondo te no Il contesto migliore dove trovare l'amore qual è? Allora secondo me è una pecca Sia sui social e sia in discoteca Mentre sui social se sei conosciuto un po' una pecca Perché il 90% delle volte Sfruttano proprio per gli follower Ti hanno mai sfruttato? C'è stato un caso particolare Che tra l'altro lui ha anche conosciuto quindi Insomma anche al single party Bisogna stare attenti a non incappare In qualcuno che vuole sfruttare noi reginette Stanno per entrare Mattè E così a luna di notte loro escono E da questo momento inizia ufficialmente la festa Mentre le special guest scattano le foto Noto che Ti escono le mutande Cosa che sembra essere una pratica diffusa qui al single party Senti ma si rimorchia qua Abbastanza Ce l'hai il numero? 469 E così cerco di capire come si ricerca l'amore in una festa come questa Come l'approcceresti a una ragazza? Vuoi bere qualcosa? Con questa con questo? Per andare a figa E' la cosa più importante per te La figa? E' la cosa più importante che ci sia nella vita Per femmine e maschi Io ne vedo sto ragionamento Hai già puntato qualche ragazza con un numero? Troppe ne ho puntate Ma non c'è mai un troppo Salutato il mio nuovo amico Non così timido come pensavo Ci sono già un sacco di messaggi E dopo aver controllato la situazione messaggi Sei venuto qua stasera per trovare l'amore? Difficile Incontro anche ragazzi che hanno perso un po' le speranze di innamorarsi Sei single? Sì Ma sei alla ricerca dell'amore? No Però c'è il numerino A me magari qualcuno si dichiara Perso le speranze ma non proprio del tutto Ma che è il tuo prototipo di ragazzi? Alto, moro, occhi chiari Un po' Un po' Colpato Tipo me quindi Così ricordando le parole della mia fidanzata Mi raccomando non fare il cretino stasera Continuo il mio viaggio nel single party Pese di Gabriele Vagnati Ma ci sono mica Un bel po' Davvero? Incontrando questo mio nuovo amico Che pensa sia il socio di Gabriele Vagnato Le mie ombre sono le più belle Perché comunque è una serata single Quindi secondo me si può rimorchiare Andiamo, andiamo Che è prontissimo a lasciare un messaggio ad una delle ragazze presente Vai scrivile scrive Così gli scrivo un consiglio dell'energia Forse non proprio prontissimo Così gli scrivo Così io Così gli scrivo Ecco forse non è pronto per niente Ecco due menti al lavoro Per trovare la frase che farà innamorare la numero 96 Ma alla fine riesce a tirare fuori un gran messaggio E come stai bene? Vabbè dai Più o meno grande Ok lascialo qua Appena scritto il messaggio Corra ad avvisare la ragazza numero 96 C'è un messaggio per te E l'hanno appesso là Potresti aver trovato l'amore della tua vita Ciao ti amo Che stai bene Messaggio Che purtroppo non la stupisce così tanto Nemmeno stasera troverai l'amore della tua vita No Ma è solo l'una e mezza E il single party continua più forte che mai Qual è il tuo prototipo di ragazzo? Abbastanza alto Moro Per capelli scuri E io ti scudo Tipo me quindi Più forte che mai per gli altri però Anche perché Mi raccomando non fare il cretino stasera Tipo me quindi No Vabbè tanto non sono un tipo mediterraneo io È difficile trovare l'amore nel 2023 Santissimo Nessuno Nessuno Secondo te l'amore dove si può trovare In discoteca al single party Può capitare Andiamo a cercarlo allora Vai vai E così riparte la ricerca dell'amore Cercalo cercalo Appena la vuoi di dimmi Osserva osserva Quello è carino Quello lì che è ballato via dentro C'ero vicino Vieni con me Il single party finalmente c'era riuscito Aspetti Vabbè però aspetta O forse c'è un problema Se non è bella io non vengo No 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 È una bella ragazzi Dipende cosa intendi per quella ragazza Niente Neanche questa volta Erano già le due e mezza Non dico un amore eterno Ma anche uno di una sera Doveva scattare No? Io voglio un consiglio Come andare a pirare su TikTok C'ho 8K Tra un pensiero alla fama Aiutami tu Allora lei Ti piace? Sì E un pensiero ad una ragazza Qual è il tuo numero? 206 Cerco di metterci tutto me stesso 206 Lo sai che hai scritto? Sei bella come il sole d'agosto Magari aggiungi Posso essere La tua ombra Ma nonostante questa grande frase Neanche questa volta scocca l'amore Dottor Luca Grassetti Il chirurgo plastico Dell'amore Ancora nessuna traccia Ma è poi di qualche altro nome importante Sì però non li dire perché per privacy è meglio non dire Però incontro questo signore Che mi dice essere un chirurgo plastico di famosi influencer Che vuole essere intervistato Influencer oggi lavorano molto Che parla Con la punta ascesa Cosa fa? Continua a parlare E dare la possibilità anche a persone Che non vogliono farmi intervento chirurgico Così tanto che potrei fare un video Soltanto con lui che parla Dottorio Con un po' Anche di cosa dovrei cambiare del mio volto Per piacere di più Poi un'altra cosa che ti farei Il botox Ve le si lavate le mani? Sì assolutamente Non vorrete delle si messe magari in qualche parte? No 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 Non sono andato neanche in bagno Sono le tre Ma io non mollo Infatti incontro un'altra ragazza Mentre scrive un messaggio Cosa deve avere un ragazzo per piacerti? Deve essere grande Quanto più grande di te? 8 anni Il massimo a cui arriveresti? 12 Potrebbe essere tuo zio tipo Ragazza che ha un punto di vista particolare sulle relazioni Andresti mai con un ragazzo che è fidanzato? Sì Mi piace un sacco questa cosa che sei timida Ho un ragazzo L'ho fatto la sacra Ho fatto un video mentre facevamo un'andata E facevate un'andata Livonavamo un'andata Il ritorno qual è? E al di là delle barriere linguistiche Guarda ho fatto un'andata L'ho mandato il video alla ragazza Come si supera una delusione d'amore? Fate le altre tre Secondo me Francesco Sole ci fa una poesia su questo Se lui non ti vuole vai con gli amici Che cosa ottieni? Vendici A te Se c'è vendicazione Ti vendichi da quello stronzo Anche lei quella sera non ha trovato l'amore L'hai trovata? La bionda La bionda aspetta Così alle tre e mezza l'ultima speranza Che numero c'hai? 214 Torno subito Questo single party può creare delle coppie Mi apri il tuo cuore Cosa scriveresti a una donna per farla innamorare di te? Mi piacciono i piedi Sei un'amante dei piedi Esatto Dalla nascita sono nato così Amore a primo piede Amore a primo piede Intanto li chiedi dei piedi Dai lascia il messaggio Questo sistema è un nuovo metodo per trovare l'amore nel 2023 Vai Che schifo Che schifo Lei non mi sembra tanto convinta Ne fa schifo Quindi non è nato l'amore No E così con un numero di zero coppie create al single party Vado via Sfinito E affranto Che serata Mattè Che serata Buonanotte a tutti Ultima pagina Ma c'è una cosa che ho realizzato da questa storia Se da una parte quasi tutti gli intervistati Dicono di voler trovare diciamo Delle persone con cui passare del tempo Sperando la sfida Fate gli altri tre Fare l'amore Fare l'amore Tu che sei volgare Dici queste cose Dall'altra c'è un dato che parla chiaro Dal 1991 al 2017 La percentuale dei ragazzi che ha rapporti sessuali È scesa dal 54% al 40% E la domanda che mi rimane da tutta questa storia è una Ci siamo chiusi a riccio E siamo molto più timidi a cercare l'amore Oppure scegliamo più attentamente con chi condividere il nostro tempo Eh Mattè? Non lo so La nostra ricerca dell'amore continua Non ci fermiamo qui Quindi scrivetemelo nei commenti Dove si può cercare l'amore E noi andremo proprio in quel posto Mi raccomando non fare il cretino stasera Mi ha appena finito sono morto Comunque è un successo incredibile Nessuno si è fidanzato Non c'era per gli altri l'amore Figurati se c'era per me Non c'era per gli altri l'amore Non c'era per gli altri l'amore